Un caldo abbraccio, una sentita partecipazione al dolore di una famiglia che chiede verità impossibili da trovare da anni. I genitori di Giulio Reggeni sono tornati a Roma, incontrando anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo essere stati ricevuti dal presidente della Camera Roberto Fico e dal ministro degli esteri Enzo Moavro Milanesi. Dal Premier è giunta a Paola e Giulio Reggeni una importante assicurazione. Si starebbe valutando un loro viaggio al Cairo accompagnati dall'istituzione italiana, una situazione che non si rinnova dal febbraio di due anni fa, il tragico momento del ritorno in patria con il ferretro del figlio. Conte ha insistito anche su un maggior coinvolgimento dell'ambasciatore italiano in Egitto, figura fondamentale per sostenere un'azione costante sulle autorità egiziane, per dare risposte precise sulla morte del giovane ricercatore. L'indagine non ha purtroppo fatto passi in avanti, le immagini delle telecamere di servizio della metropolitana del Cairo inviate a Roma dalle autorità egiziane sono inservibili, non contenendo i 20 minuti centrali. Il tutto mentre al Cairo resta sempre detenuta in attesa dell'imminente prossima udienza Amal Fatih, la moglie di Mohamed Lofti, direttore di un'organizzazione per la difesa dei diritti umani, di cui fanno parte anche gli avvocati della famiglia Reggeni in Egitto. Anche il presidente della Camera FICO ha sottolineato ai Reggeni la volontà di giungere a una verità non solo per loro, ma anche per l'Italia stessa.